L'Alzheimer è una malattia che attualmente colpisce circa il 5% delle persone con più di 60 anni, un milione gli ammalati in Italia, 65.000 in Veneto. Nonostante le molte sperimentazioni, attualmente non esiste una cura per l'Alzheimer né per altre forme di demenza e il peso della malattia ricate sulle famiglie. Un valido supporto è rappresentato dal centro di decadimento cognitivo che nell'Ulse 20 al Palazzo della Sanità segue 2.000 famiglie. Questo è un centro in cui più figure si occupano di questa patologia e quindi è una risposta che diamo a più aspetti della malattia. Quindi primariamente è un centro medico, quindi la risposta è quella della diagnosi clinica e di una terapia se c'è da effettuare una terapia e un follow up clinico medico sostanzialmente. Nel caso ci fossero anche bisogni di tipo assistenziale, comunque seguiamo il paziente cercando di dare le indicazioni su quelli che sono i percorsi più semplici per affrontare anche l'aspetto assistenziale che è fondamentale nella storia di questa malattia. Esistono poi neuropsicologi che lavorano anche presso il nostro centro che ci aiutano nella fase diagnostica ma anche nella fase del supporto ai familiari. Quanto è importante la collaborazione della famiglia del paziente? È fondamentale perché di fatto il nostro aiuto, devo dire, è una briciola al confronto di tutto quello che è il percorso di un paziente con questa malattia e della sua famiglia. Se il paziente non ha famiglia ovviamente interviene anche il Servizio Sanitario Nazionale, intervengono i centri di supporto, ma quando c'è una famiglia la famiglia direi che ha il carico dell'80-90% per questa malattia. Cosa si può fare per aiutare il paziente affetto da Alzheimer? Esistono dei farmaci che se si riesce a intervenire precocemente nella diagnosi di malattia e se la diagnosi è il più possibile vicino alla realtà, possono rallentare l'evoluzione della malattia stessa per un periodo che va di solito intorno ai due anni, a volte può rallentare anche di più e quindi noi consigliamo comunque di fare una valutazione il più precocemente possibile. Se non si può fare una terapia farmacologica specifica, comunque cerchiamo di supportare la famiglia perché come dicevo prima il cardine portante di questa pandemia e dell'assistenza a questa malattia è la famiglia. Quali sono le storie di queste persone? Tutte uguali, tutte diverse. Sono storie a volte tristissime anche inserite in questo specifico contesto sociale della nostra realtà nazionale e internazionale, quindi sono storie che ricomprendono vari aspetti quello economico, quello dei rapporti familiari, quello delle malattie, sono storie pesanti comunque in ogni caso, sempre.